Una lite per la viabilità scatena la vendetta della vittima, ne segue. Una rissa e i carabinieri della sezione radiomobile di Giuliano in Campania in provincia di Napoli arrestano tre persone. Il motivo scatenante? Una precedenza non rispettata. L'intervento dei militari parte in via degli innamorati. Tre persone si affrontano, due contro uno. La rissa è violenta, ma i carabinieri riescono ad immobilizzare ed arrestare tutti. Si tratta di un 23enne di Giuliano e padre e figlio di Villarica di 52-18 anni, tutti incensurati. La discussione nasce in strada, il 23enne insulta il 18enne, lo aggredisce con una mazza, gli spacca il parabrezza e lo colpisce anche al braccio. Poi torna a casa la vittima, chiama il padre e con lui riesce a trovare l'abitazione del 23enne. Gli scoppia la rissa. Per padre e figlio rispettivamente 5-10 giorni di proniosi, il 23enne è stato medicato sul posto dal 118. Nell'auto del 23enne i militari hanno trovato una mazza da baseball, un coltello con lama seghettata e un tubo di rame piegato. Sottoposti ai domiciliari, sono in attesa di raccontare al giudice la loro versione dei fatti.